però qua deve essere molto più veloce e anche morbido se lui spingi tu devi uscire fuori quanto lui spingi tu... e si fai altra tecnica quella che è bella qua controllo di qua questo è una pressione abbastanza difficile di controllare sono quelle che sono venute spanti da una testa sono sportivo per quello si vede, metti così già mi sento scomodo infatti ho sentito subito che grazie così accanto lo so sai perché si 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 media con destra ho fatto vuoi dire sinistra no? no no funziona anche questo però questo è neve cosa faccio? vado qui per esempio per controllare però controllo però poi posso lanciare controllo una cosa semplicissima però non fanno vengo qui posso controllare posso controllare subito vengo qui posso anche lasciare un po' se ti tiro e continuo a tirare di qua continuo controllo top top quattro questo piccolo elemento vieni qua per sentire perché quando guardi sembra una studiare no 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 è semplice ma questo è spuntionante sempre così senti sì l'importante è che vi sbagli sì top sì piccolo movimento ok libero che lo senti senti ah hop hop basta no che ci sono poi le fiche agonciti con damba no piccolo coso stai con le metti anche vedete dolore hai sentito subito dolore anche quando ti tiro solo così ok dai libero veloce ciò un po' di tempo e va andiamo qua qui spale vado a te mi piace laterale questo funziona cosa anche quando questo tricito funziona quando sono sopra quando sono laterale sempre funziona questo tricito sempre funziona questo tricito in sospira sospira o inglese con sospira con di per che la piccoli cosi, piccoli cosi elementi, però grandi, lavora con grandi elementi questa piccola cosa si, basta tirare i braccio un pochino e atacare la spalla lui deve essere sotto il suo presione e qua purtro tanto deboli con parte inferiore di spalla non alta si, si, si ma così funziona a tirare attenzione di là a tappa altra parte il brasiliano giusto, solo così tutto in questo modo ti do una cosa giusta per sentirti un po' no no ok 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 ok